La Serie 6 TTV monta un'innovativa trasmissione a aviazione continua composta da due motori idraulici ed un gruppo epicicloidale. Il comportamento dei motori idraulici varia a secondo della gamma. Questo assicura sempre le massime prestazioni negli utilizzi ad alta velocità. Il 6.230 TTV è progettato per viaggiare a 60 km orari a pieno carico a 1.790 giri motore. A 40 km orari a 1.200 giri. Questo si traduce in un notevole risparmio di carburante. Il cambio tra una gamma e l'altra avviene quando le due frizioni ruotano alla stessa velocità. Nessun controccolpo e garanzia di aver sempre il trattore in trazione. Sono state aggiunte alcune strategie di guida. Oltre alle consolidate manual, auto e PTO abbiamo ora l'Advanced Auto Mode con il quale si sceglie il numero di giri motore minimo e la funzione PowerShift con treici rapporti di velocità preimpostati. Va sottolineato che la nuova trasmissione ha rispetto alla precedente una capacità di treno del 47% superiore e un utilizzo medio della componente meccanica molto maggiore, alle alte velocità fino a 6 volt in più. La trasmissione è dotata di un inversore idraulico con la possibilità di regolazione durante l'inversione di marcia.